Buongiorno a tutti, conferenza pre-gara di Avellino Taranto, come al solito c'è mister Ezio Capuano a vostra disposizione, come al solito iniziamo dal media partner, Antena Sud. Sì mister, è una partita che non ha bisogno di presentazioni, anche perché il Taranto viene da un momento particolarmente buono, con questi risultati positivi, però l'Avellino è una delle squadre costruite sicuramente per la Serie B, che partita sarà? Buongiorno, si gioca contro una squadra che ritengo insieme al Benevento, il Crotone, il Catania, squadra che è costruita per vincere, per me l'Avellino è una squadra fortissima, costruita benissimo, davanti ci sono due sorprese che bisogna fare soltanto i complimenti, quindi al Picerno e voglio dire alla Juve Sabbia. Avellino, Avellino è inutile dire i nomi di a disposizione, ha una proprietà, ritengo, tra le più importanti in assoluto del panorama calcistico italiano, non soltanto della Serie C, ha un pubblico fantastico, e da una squadra che non c'è bisogno di presentazioni, guidata secondo me da un allenatore intelligentissimo, da un ragazzo che secondo me farà tantissima strada nel mondo del calcio, un ragazzo serio, umile, ripeto, preparatissimo, quindi noi siamo convinti a chi andiamo ad affrontare, ma anche consci di quello che è la nostra squadra, perché anche la nostra è una buona squadra, penso che lo abbiamo dimostrato in tutte le partite che abbiamo fatto, sicuramente ci sarà una fase di attenzione, di rispetto, forse un poettino di più rispetto ad altre squadre, perché quando vai a giocare contro una squadra che davanti ha giocatori, perché poi la differenza te la fanno sempre gli attaccanti, ad Avellino non hanno soltanto bravi attaccanti tipo Marconi, tipo Gori, tipo Patierno, e chi ne ha più ne metta, ma hanno dei giocatori anche dietro, Rigione, Cionec, voglio dire, in mezzo al campo, Dall'Oglio, Armellino, Patierno, hanno una squadra importante, quindi bisogna fare soltanto i complimenti a chi l'ha allenato, sicuramente potevano avere qualche punto in più, senza ombra di dubbio, però il campionato è lunghissimo e sono convinti, io sono sempre convinto che una tra loro e Benevendo andrà su. Buongiorno, Mestre Daniele Crediti, Cronaca e Tarantino, due domande, la prima di calcio giocato, allora per quanto riguarda il calcio giocato ti vorrei chiedere questo, loro giocano con il nuovo allenatore con il 3-5-2, se ti porti qualche dubbio di giocare a specchio, ti dico subito che le ultime due squadre che hanno fatto il risultato, mi riferisco alla Torris che ha fatto 0-0 e al Giuliano che ha vinto 3-1, hanno giocato con un modulo offensivo, diciamo, con un 3-4-3, un 4-3-3, però ognuno vede casa propria, visto l'ultima prestazione di Bifurco che rientrava da tre giornate, quindi magari ancora aveva perso un po' il ritmo partita, non è stato proprio brillante, ti porti questo dubbio del modulo? Poi ti faccio un'altra domanda, il calcio non giocato, grazie. Buongiorno, ma io ho sempre detto che non è importante il modulo e come va a interpretare la partita, lo ripeterò, forse mi sto facendo un pochettino vecchio, e come occupi gli spazi, con quanti giocatori riesci ad occupare gli spazi, ad essere dietro la linea della palla, per esempio loro sono una squadra fortissima, perché rientrano nella fase difendente sempre con tutti gli uomini dietro la linea della palla, è difficile trovare un buco. E con quanti giocatori riesci a proporre, quindi il modulo lascia il tempo che trova. Io sicuramente penso che col mio staff abbiamo studiato bene questa squadra, come ho detto prima, portando un rispetto diverso, magari se vai ad affrontare una squadra magari non con questi giocatori talmente bravi. Poi ho ancora 24 ore, deciderò, ho fatto anche un allenamento stamane, e quindi mi porterò tanti dubbi, perché si sono allenati tutti benissimo, e tu sai che quanto una squadra si allena tutti bene, un allenatore ha difficoltà. Quanto magari sei convinto di una scelta, perché qualcuno non lo vedi bene, o si allena non benissimo, allora sei più convinto. Io scioglierò i dubbi nell'immediatezza della gara, ma secondo me possiamo giocare, come ho sempre detto dall'inizio, in diversi sistemi di gioco, perché abbiamo giocatori che possono interpretare più sistemi di gioco. L'altra domanda riguarda le dichiarazioni del direttore sportivo Perinetti e Lavellino. Ha detto che Capoano ha scaricato tutta la pressione su di noi, ma voglio ricordare a Capoano che anche lui ha degli obblighi nei confronti della sua proprietà. Cioè ha confermato gente come Antonini e Bifurco, nello stesso tempo ha preso gente come Cianci e Canute, e quindi il Taranto è un'ottima squadra. Grazie. Ma io prima di rispondere non vorrei che fosse fraintese le mie frasi, speravo che questa domanda non mi venisse fatta, con grande onestà, però con l'onestà che mi contraddistinque devo rispondere e non cercare di dribblare la domanda. Intanto io non voglio che la mia risposta è che io ho un rispetto per Avellino illimitato, per la proprietà, che è un grande rapporto, che mi sento ancora, e per la città. Io, Avellino, oggi alleno il Taranto, ma Avellino mi rimarrà sempre un pezzo della mia storia calcistica e sono fiero e orgoglioso di esserlo stato l'allenatore. Quindi, detto ciò, ma i complimenti di Giorgio Perinetti a me mi inorgogliscono, perché Perinetti è uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Per Perinetti non parliamo di un dirigente di C, parliamo di una persona qualificata, di un dirigente di altissimo spessore e quando dice che noi abbiamo una squadra forte ci inorgoglisce. Non so la pressione che noi dovremmo avere, perché con grande onestà noi abbiamo 12 punti di vantaggio, vorrei di marcare a Giorgio sulla zona rossa, e mi sembra di avere 7 punti di vantaggio sui playoff. Mi sembra che io sono stato l'unico sui 20 a dichiarare dove me ne son pentito nella partita prima del Foggia, dove dissi il nostro obiettivo è il mantenimento della teoria e di migliorare la classifica dell'anno scorso. Siccome quando tu parli oggi con i social vai in mondo visione, è di cercare di fare un punto in più dell'anno scorso. Quindi non vedo questa pressione che noi dobbiamo avere. Poi, adesso lo voglio rimarcare, se chi ha costruito questa squadra, andando a prendere determinati giocatori, e tenendo Antonini, poi andiamo anche su Antonini, oppure Alfredo, oppure tutti gli altri, nella persona di Massimo Giove è un fenomeno, perché nella costruzione economica c'è tanto di suo, nella costruzione tecnica, inutile prenderci per i fendelli, c'è tanto di mio. E' riuscito a fare una squadra, dove, adesso lo dico e voglio che qualcuno mi smentisca, fino adesso non l'ho mai detto, con squadre che sono dietro di noi di tanti punti, qualcuna che ha pari punti con noi, e qualcuna che c'è magari qualche punticino sopra, e han speso dieci volte, dieci, e mi mantengo basso, rispetto a quello che ha speso il Taranto, allora al Taranto Calcio, nella persona di Massimo Giove vuol dire se è un fenomeno, quindi gli dovrebbero dare un tapir d'oro, non in fatto di sarcasmo, ma vero. Quindi io non capisco la pressione che dovremmo avere noi, io la pressione ce l'ho tutti i giorni, in ogni allenamento, perché ho sempre detto che noi non avremmo rinunciato a nulla, in che senso? Noi non facciamo voli pindarici, rimaniamo sempre con i piedi per terra, perché il calcio poi è strano, il calcio è la malattia del disquilibrio, come dico sempre io, però voglio dire, noi andremo avanti cercando di fare sempre il meglio, e non ci poniamo limiti, ripeto, quello che ha detto Giorgio Perinetti a me mi fa un piacere enorme, perché detto da Perinetti ci inorgoglisce, perché io reputo Perinetti uno dei più grandi competenti del calcio italiano, almeno degli ultimi anni. Buongiorno mister, Tara C.V. e Box Tarentum, Francesco Leggeri. Bene, una settimana che abbiamo riscaldato anche noi, diciamo, con il suo aiuto abbiamo messo già carne a cuocere, parlando bene dell'Avellino, perché alla fine... Ma non è carne a cuocere, io ho fatto, chiedovenia, io ho detto dopo una partita, mi ricordo bene ciò che ho detto, sembra che chissà cosa ho detto, io ho detto, noi si va a gioare ad Avellino, io, che sono una persona schietta, onesta e sincera, per me si gioa contro la squadra più forte in assoluto, insieme al Benevento, attenzione, insieme al Benevento. Perfetto. Ho detto, noi ci sia tutto da guadagnare, non so cosa ho detto, sembra che chissà cosa... Lo ribadisco anche in questo momento. E infatti, gli attacchi al Taranto non sono arrivati solo in questa maniera, se di attacchi si può parlare, perché Perinetti è un signore, lo sappiamo. Lo conosciamo, un grande del calcio. Non solo Perinetti, lei magari non conosce il dottor D'Agostino. Sì, magari, sì. La famiglia D'Agostino è di un verbenismo illimitato al di là del calcio. Ma la mia domanda va ancora più in là. L'attenzione sul Taranto, magari anche complice Rai TV, la settimana scorsa forse un milione di persone hanno visto la partita, perché Sky TV, alla Rai non c'era niente di importante, la Rai che dava il Taranto, Antenna Sud, di qua e di là, il Taranto è stato stravisto. E vuoi che Antonini fa un altro delle sue perle, un altro gol, e qualcuno si è interessato troppo a questo giocatore. Alfredo Pedullà, che è un grande professionista, arriva sempre nei momenti sbagliati. Questa è una partita che ce la dovevano far giocare con calma. Io spero che il ragazzo adesso non frulli la testa per andare via a gennaio. Allora, tolgo io tutti i dubbi? Sì, prego. A prescindere che nel calcio esiste, come nella vita, Ubi Major, Minor Cessat. È una frase latina che, voglio dire, la possiamo anche dicendo, il maggiore comanda sul minore. Qui c'è il presidente che ieri ha fatto una dichiarazione. Penso, allora, noi non si prende per i fontelli nessuno. Abbiamo creato uno spazio triennale, non potendo investire come le altre squadre, costruendo un giocattolo. Antonini fa parte di questo giocattolo. Noi non daremo mai Antonini nel mercato di gennaio, altrimenti avremo tradito una città. Avremo tradito a chi ci ha dato forza e chi ci ha dato fiducia. Nell'intrinseco Massimo Giove, può piacere, non può piacere, ma è il più grande tifoso del Taranto. Ha fatto una dichiarazione forte. Io voglio dire, noi Antonini, se dovessi dire che noi non abbiamo attenzioni su Antonini, sarei un ipocrita. E tutti i giorni. Voglio dire, Antonini, noi lo si è trattato l'anno scorso, adesso do una notizia, con una squadra di Serie A, con l'Empoli. C'ero io, c'era il presidente Giove, c'era anche Giuseppe Giove. Per noi, Antonini, è un giocatore pronto per la Serie A. Io dico le stesse cose che dissi dopo Avellino Vibonese su Parisi. Quando moltissimi avevano dei dubbi, io dissi, Parisi è come l'oro. Più c'è e più aumenta il prezzo. Parisi non è un giocatore di B, Parisi è un giocatore di A. Io intanto, se ci sono delle attenzioni del Brescia, di altre squadre, io ne potrei di tante. Per noi, Antonini è un giocatore di Serie A. Antonini, se l'avessimo voluto dare in B, l'avremmo dato a Giugno. Per me, Antonini, Ezio Capuano, è un giocatore che in A, ci gioca con la sigaretta. Siccome che queste cose le sta dicendo un uomo di quasi 60 anni, quindi chiudiamola qui. Poi, quelle cifre che leggo, noi non siamo morti di fame. Cioè, noi siamo una società oculata dove il Presidente Giove fa sacrifici limitati, ma non abbiamo bisogno di quegli spiccioli che leggo. Per me Antonini è un giocatore fondamentale, è un giocatore che andrà in A e sicuramente non vale quei soldi che ho detto. Sì, Luigi Gareri che ha detto lo sport, tu hai ribadito prima che l'Avellino, insomma, la ritiene col Benevento, la squadra migliora, no? In campo ovviamente non vanno gli investimenti, i bilanci, però ovviamente l'Avellino c'ha qualcosa in più a livello di Rosa del Taranto. Come si riduce, secondo te, questo gap in una partita secca? Secondo me i valori verranno fuori. Su questo non c'è un prea di dubbio perché siamo ancora a due giornate che definì il giro nell'andata. Poi bisogna dire anche a vantaggio dell'Avellino che è una squadra largamente rinnovata come il Taranto, no? E come si affronta? Si affronta prendendo delle argomentazioni giuste ed è una partita che sarà sicuramente molto sui dettagli, però lo ripeto, Gigi, anche noi siamo una buona squadra, non è che domani giocano contro, voglio dire, noi lo abbiamo dimostrato perché poi alla fine l'Avellino ha un punto in più su di noi e se la classifica ha un valore, a due giornate alla fine si ha un punto in meno. Quindi vuol dire o che noi abbiamo fatto un miracolo fino adesso o che loro avranno anche loro qualche problema perché poi la classifica, quella, voglio dire, quella non mente mai. Come la si affronta? Noi pensiamo di averla preparata bene come tutte le partite, sapendo che loro hanno qualità ma sicuramente a prescina che hanno un grossissimo allenatore, ma non lo dico, non è che ho grandi rapporti con pazienza, è uno che ha un'identità, è uno che difende la squadra bassa, che ti viene giù, che difende nei 40 metri con 10 uomini di ero linea della palla, che ti concede poco, che è bravo nella fase transitiva, è una partita, noi l'abbiamo preparata con grande attenzione, poi è normale che il campo domani si intenzierà. Siamo convinti che loro sono una grandissima squadra e non li ripetano sempre queste cose, bla 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 bla, sono forti. Buongiorno mister, io devo un po' distribuire i miei quesiti e devo continuare questa discussione sull'asse Avellino Taranto, perché tra le dichiarazioni di questa vigilia, di questa importante partita, un big match possiamo definirlo, in effetti ci sono stati anche dei riferimenti, sempre del direttore Perinetti, ma se non mi aderrato anche dell'allenatore Pazienza, riguardanti una visione, una dimensione degli arbitraggi al partenio, che propendono più per le squadre ospiti. Una rilevazione che hanno fatto anche credo di aver letto approfonditamente in base a quanto è successo in Coppa Italia, comunque a prescindere da questo, insomma è abbastanza atipica se vogliamo, volevo una sua prima impressione su questo, poi andiamo sull'attuale. Ma io penso che fa, è il gioco delle parti, cioè ho detto prima, Perinetti è molto intelligente, è stato dicendo furbo, la furbizia è una cosa, l'intelligenza ne è un'altra. Lui è un dirigente di valore assoluto, è normale che queste dichiarazioni magari cerchi di portare pressione sull'arbitro. Sicuramente l'Avellino avrà avuto dei torti, ma se noi andiamo sui torti nei due anni che sono io a Taranto, dobbiamo fare un album. Cioè, voglio dire, dobbiamo costruire non un dossier, un album. Cioè, io l'ultima partita, la penultima che noi abbiamo perso in casa, Candelloni è stato convocato da Gegete e Giorgi, adesso lo dico con sarcasmo, cioè, noi si è perso con la Juve e sabbia, con una schiacciata di Candelloni, non abbiamo detto nulla. Sicuramente l'Avellino fa bene ad evidenziare questi torti che ha avuto, però, voglio dire, fa parte della grandissima qualità del dirigente bianco-verde di cercare di portare pressioni, ma non penso che l'arbitro di domani possa leggere o possa essere... Allora, noi cosa dobbiamo dire? Io lo posso dire, noi dopo Catanzaro è venuto... Io stimo Ciampi, forse lo stimavo come arbitro, come designatore, ma come uomo. È il più garantista, uno dei più garantisti che esiste nel calcio. Cioè, dopo Catanzaro, lo scippo che noi avevamo a Catanzaro, lui venne qui prima della partita a chiederci scusa, a me personalmente, quindi mi sta ascoltando, il dottor Ciampi, cioè Ciampi mi sta ascoltando, però non abbiamo detto mai nulla. Poi, ognuno è libero di dire quello che vuole e di lamentarsi nella maniera più assoluta. Lavellino è una società serissima, se lo ha fatto alle giuste argomentazioni. Però, se dovessi fare io, ci vuole un album. L'ultimo è la convocazione di Candelloni nella Juve Stabia, cioè, noi si è perso con la Juve Stabia con una schiacciata, è una cosa... Non voglio andare il gol due metri dentro, ognuno può dire quello che vuole e noi dobbiamo avere rispetto per tutti. Continuo sempre io e ci gettiamo un attimo sull'attualità di dovere. Mister, come sta la squadra? Ha detto che ha svolto un ottimo allenamento, però c'erano state anche delle defezioni, c'era stato De Santis, uscito un po' malconcio contro il Monopoli, un po' la situazione dal punto di vista fisico-atletico dei ragazzi? La squadra sta bene, sicuramente ci portiamo qualche acciaccato, quindi non so se lo manderò in campo domenica o meno, De Santis che lei ha nominato sicuramente non sarà tra i convocati, purtroppo è un'assenza pesante, ma non ci sarà, non ha recuperato dopo l'infortunio di domenica, poi gli altri portano tutti, non c'è nemmeno non c'è Ainz, non c'è Isabel, Rigio è tra i convocati, ma è in una situazione molto molto difficile che possa andare in campo, poi io ho un gruppo eccezionale, vediamo se lo riusciamo a mandare in campo a qualcuno anche con l'aiuto del grande nostro staff medico, ma ne abbiamo tanti acciaccati, non ho mai parlato di alibi, non ho mai parlato di assenze, perché l'alibi secondo me è il successo del perdente, chi andrà in campo domani sono convinto che farà una buona prestazione a prescindere il valore illimitato dell'avversario. E mister poi mi consentiranno invece un'altra osservazione, questa è abbastanza generica, Luciano Spalletti ultimamente ha parlato delle squadre evidenziate nella loro dimensione come calcio fisico, calcio tecnico e calcio relazionale, componenti che devono identificarle, io volevo sapere a due giornate dal termine del girone d'andata come si può identificare il taranto, il bilancio di queste componenti quindi dal punto di vista della preparazione fisica, dal punto di vista della crescita tecnica e poi dal punto di vista relazionale quindi della bontà dello spogliatoio, però mister in questo aggiungerei anche il ruolo della stampa locale soprattutto, ecco come lo può valutare sta dando una mano a questo taranto? Noi si cerca di isolarci da tutto la grande qualità di questa squadra è la compattezza dello spogliatoio l'empatia e la familiarità che regna nel mio spogliatoio questo è l'elemento più importante se si parla di crescita penso che quando sono arrivato io Antonini veniva dai dilettanti se non erro dal Ravenna un odore fortissimo che siccome in Italia a capirne di calcio non è che sono tantissimi perché io li conosco quelli che mi hanno chiesto Antonini già l'anno scorso magari si va sul profilo diverso ha avuto una crescita esponenziale e quindi penso che lo staff del taranto abbia meriti illimitati qui si parla tanto di Antonini io posso dire che c'è un ragazzo Fiorani che ce lo cerca in tanti magari è molto più giovane quindi sulla crescita dei giocatori penso che non ci sia ombra di dubbio sulle qualità umane penso che il successo più notevole e poi cosa devo dire il taranto è una squadra pragmatica compatta è una squadra difficile da affrontare non bellissima da vedere ma su questo penso che non ci sia ombra ombra di dubbio noi cerchiamo sempre di migliorare cerchiamo sempre di lavorare per me l'allenamento il miglioramento di una qualità non è una fase allenante comune e quindi questo lo cerchiamo di fare giornaliermente per quanto concede la stampa e quanto si lavora in una piazza così importante è normale che tutti cercano il boom anche la notizia data sia da Brescia e poi riportata ieri nell'immediatezza di una partita così importante dalla stampa locale non è una bella cosa poi siccome noi abbiamo un presidente bravissimo fortissimo che sa far calcio ha fatto una dichiarazione spiazzando tutti e dicendo quello che è il nostro pensiero quindi io non posso che complimentarmi con Massimo Giove per l'ennesimo atto d'amore che ha fatto verso la città di Taranto perché tenere Antonini non è facile come tenere altri ma ne potrei dire tanti voglio dire anche noi si è preso i giocatori adesso non ci rendiamo per culo altrimenti sembra che facciamo le tarantelle noi i giocatori che stanno facendo più bene attualmente sono stati i giocatori cacciati da altre parti va bene diciamolo così altrimenti a me prendere il culo non mi piace ok fare bu 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 adesso sono diventati fenomeni e allora quando erano all'altre parti o si capiva poco di calcio o qui sono fenomeni tutti chiudo così buongiorno mister Cristian Cesario Corriere di Taranto di Cora del Sud le volevo chiedere se hai avuto modo di parlare magari un po' di più con Canotè visto che per lui sarà una partita particolare e come può essere utile proprio dal punto di vista tattico attaccando una difesa comunque a tre come quella dell'Avellino che spesso acconcede anche qualche spazio in velocità io non ho bisogno di parlare con i giocatori anche per Canotè un professionista di livello altissimo quindi giocare per lui o con l'Avellino o col Brindy si cambia poco lui cerca di fare sempre il meglio per la squadra è un giocatore in fiducia è un giocatore che sta facendo attualmente benissimo e quindi mi auguro che anche domani ripeta le prestazioni che stia facendo ma non è che Canotè perché gioca contro l'Avellino anche io domani gioco contro l'Avellino e gioco e lo dico per l'ennesima volta a qualcuno può piacere non può piacere contro una delle piazze che ho sempre voluto allenare e che mi ha dato tantissimo mi ha dato tanto in quell'esperienza dove presi una squadra allo sbaraglio senza società portandola addirittura nei playoff non perdendo a Terni e quella quella quei mesi mi ha dato modo di conoscere delle persone stupende che ancora oggi li sento quotidianamente e sono orgoglioso e fiero di essere loro amico quindi non è solo per Canotè anche per me però poi quando l'arbitro fischia si gioa con Canotè non ho assolutamente parlato perché Canotè sa che domani è una partita difficilissima a prescindere contro chi si gioa ho messo abbiamo toccato più argomenti un altro argomento importante è sicuramente quello del pubblico ennesima trasferta vietata c'è la possibilità allora lì allora nel senso finisco la domanda chi decide certi tifosi vanno certi tifosi non vanno ma qui c'è una cosa proprio contro Taranto allora io volevo che nessuno mi facesse questa domanda allora noi si gioa con il Foggia non c'entriamo nulla si ha campo chiuso si gioa ogni tre giorni ci mandano a giocare in campo neutro porte chiuse abbiamo un danno economico mostruoso ma anche un danno tecnico perché oltre che ci hai fatto gioare ogni tre giorni siamo arrivati alla partita con la Juve Stabia scoppiati perché si gioava ogni tre giorni chi mi dice a me che io se gioco allo Iacovone non le vinco le partite che sono andate in campo neutro e che c'entrava il pubblico di Taranto cosa c'entrava la società quindi noi abbiamo avuto una beffa come pubblico e un danno economico mostruoso mi auguro che chi saranno i responsabili dovranno pagare chiunque questo sia chiunque chiunque ha creato quell'orrore perché quello è un orrore quello che è stato creato ok chiunque deve pagare deve pagare e mi auguro che chi ha subito dei danni deve essere quando meno tutelato ci chiudano le trasferte io penso che non è bello perché il calcio a prescinta del Taranto posso parlare del Foggia posso parlare dell'Avellino posso parlare della Prosesto o della Viterbese il calcio è l'essenza dell'emozione dell'entusiasmo quando una persona vive per vedere la propria squadra e tu non gli permetti di andare fuori casa è la cosa più brutta è la cosa più brutta anche perché mi dite i Tarantini dove hanno sbagliato mi dite il pubblico di Taranto dove ha creato dei disordini fuori casa se uno me lo dice è facile vietare la trasferta ai Tarantini è facile vietare la trasferta agli Avellinesi è facile vietare la trasferta ai Foggiani ed è molto facile fare andare i tifosi del Monterosi non è giusto nella maniera più assoluta ma a tutela dei tifosi italiani non dei tifosi del Taranto poi a Taranto a Taranto non è che siamo massacrati di più in tutto e per tutto va bene chiudiamo qui grazie a tutti aderci aderci grazie a tutti